David Pasqualucci, primo mondiale, una qualificazione olimpica acquisita, tre spareggi, tutti e tre vinti e l'Italia in finale per l'oro al mondiale. Le tue sensazioni? Sensazioni, felicissimo, come anche i miei compagni di squadra, una cosa diciamo anche un po' inaspettata, ma comunque abbiamo lavorato solo tutto l'anno, quindi è quello che ci crediamo, giusto così. Hai mantenuto la freddezza che serviva come un veterano, sei soddisfatto delle tue prestazioni? Molto soddisfatto, molto molto soddisfatto. E adesso domenica c'è la finalissima con la Corea del Sud, cosa ti aspetti? Aspetto un bello scontro e che comunque noi facciamo quello che sappiamo fare. Non sei una bella donna, perché gli altri sei indietro, grazie. Grazie David.